bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono xyuder allora ragazzi sfide di deadpool abbiamo la sesta coppia di sfide andiamo sul computer le controlliamo niente di strano niente di difficile trova il pennarello nero di deadpool dove si trova semplicissimo si va nella parte degli agenti da brutus entrando su brutus sul tavolo esatto troverete il pennarello e quindi andiamo a dare un'occhiata di nuovo dove c'è lo sgabuzzino di deadpool sempre nel computer e come vedete imbratta poster degli spettri o delle ombre basta che andate nelle città ragazzi è facilissimo perché sono quelli che trovate appesi ai muri delle case niente di più semplice utilizzateci sopra uno spray e ce la farete noi vi ringraziamo tantissimo per avere guardato questo video ci mancherebbe un bel like e noi ci vediamo presto ciao